E tanti amici, fermiamo insieme con i compagni che sono qua. Sono la mia scuola e ti dico grazie, siete le mie insegnanti e vi diciamo grazie. E con gli amici ci stringiamo insieme, sotto quest'albero si sta bene. E ora ci sentiamo pronti, con quello che abbiamo impegnato possiamo dare con credenza. Abbiamo imparato a utilizzare con questi strumenti che sono ali, possiamo andare lontano, per andare su nel cielo della nostra vita, dei nostri desideri. Del nostro mondo è ancora più su, perché adesso ci sentiamo veramente... Viva delle stelle!